Abbiamo dovuto innanzitutto cogliere l'occasione per analizzare quali sono i danni, in quali parti della struttura hanno inciso e soprattutto correlarli con le caratteristiche di questa struttura che è molto particolare, che anche non è completamente nota perché per difficoltà di conoscenza, pensate, la sua nascita è nel 1200 circa e con evoluzioni del tempo enormi, delle evoluzioni anche di grossissima dimensione. C'è un danno che non è di questo terremoto ma che è della progresso, della vita di questa cattedrale che ad esempio è delle rotazioni della facciata. Pensate, qui la storia va correlata alle conoscenze che si ricavano anche dalle documentazioni storiche. L'altro problema è che non conosciamo sostanzialmente nulla delle fondazioni e questo pensare di fare dei miglioramenti sismici mancandoci una buona parte della struttura che è la fondazione e tutto questo in rapporto al fatto che poi la struttura è completamente cambiata nel 1700 insomma.